Buonasera a tutti, ben trovati da parte di Pietro Riglia, nuovo appuntamento quotidiano solita striscia serale, tutta dedicata alla chiusura sui mercati azionari del vecchio continente, in particolar modo uno sguardo principale al nostro listino di casa e nostra. In attesa della riunione della BCE che sarà il vero market e mover del mese, riunione che ricordo sarà in programma la decisione della BCE e attesa per domani dalle 13.45 e in poi con conferenza stampa di Mario Draghi, dalle 14.30 e in poi i mercati azionari europei chiudono la loro seduta, oggi mercoledì 4 giugno chiudono impostati sulla cautela, una seduta che era ricca di dati macro in particolar modo e provenienti da oltreoceano, dagli Stati Uniti e dati negativi come la stima di P, i nuovi posti di lavoro risultati in discesa rispetto alle attese e 179 mila posti di lavoro creati nell'ultimo mese rispetto ad attese di 210 mila posti e ricordo che questo dato precede l'atteso dato riguardante la disoccupazione e che arriverà nella giornata di venerdì ma delude anche la produttività non agricola. Unico dato positivo è l'ISM dei servizi salito a 56,3 punti contro attese e poste a 55,5 e nonostante comunque questi dati in un certo qual modo negativi, l'impostazione sui mercati rimane sempre al rialzo con il sentiment che rimane sempre sui top di periodo volatilità bassa, quindi al momento sui mercati non c'è timore. L'unica possibilità, quindi l'unico momento in cui la volatilità dovrebbe alzarsi sarà appunto domani con la riunione dell'Ebce. Sul mercato di titoli di Stato nessun dato rilevante, il BTP Bund è quota in aria 161 punti base con un rendimento sul decennale sempre sotto la soglia dell'E3% e sul valutario in attesa dell'importante riunione di domani l'Euro viaggia in aria 1,3620 nei confronti del dollaro, sempre vicina ai primi importanti supporti minimi delle ultime settimane posizionati in aria 1,36, sotto questo livello è normale che la moneta unica dovrebbe andare a testare i minimi di inizio 2014 posizionati in aria 1,35. Ricordo anche che gli hedge fund, questi sono i rumors delle ultime ore, stanno tagliando l'esposizione sulla moneta unica europea, sull'Euro anche in conseguenza di quello che dovrebbe arrivare domani. Domani si attende un ulteriore taglio dei tasti che andrebbe a far segnare i nuovi minimi di sempre per quanto riguarda i tagli di interesse e ulteriori armi sono sempre in mano al Governatore Draghi per far ripartire l'economia e far risalire l'inflazione nell'aria Euro. Uno sguardo al nostro indice principale, dopo una prima parte di giornata è passata in entrano negativo, siamo arrivati quasi a perdere oltre l'1%, il nostro indice principale chiude le quotazioni in aria 21.622, leggero ribasso dello 0,16%, l'impostazione come vedete rimane sempre impostata al rialzo con prossimi target posizionati in aria 22.000 punti e a seguire 22.200 punti. Al ribasso, primi segnali di incertezza si avranno con la rottura delle medie mobili a 10.50 posizionati in aria 21.350 e 21.400 sotto i quali il Fuzzimib andrebbe a testare i minimi di lunedì della scorsa settimana posizionati in aria 21.130 punti. Tra i titoli interessanti all'interno del nostro edistino andiamo subito a vedere il titolo IGD che si avvicina alle importanti resistenze posizionate in aria 1.375. Il titolo viaggia al momento all'interno di un'ampia fase di congestione in atto ormai dal mese di marzo tra i primi importanti supporti in aria 1.22 e le resistenze posizionate in aria 1.375. La chiusura odierna è in aria 1.346. Altro titolo che è all'interno del nostro portafoglio invece è questo, il titolo Mare Technimont che nel breve viaggia all'interno di una congestione di brevissimo periodo posizionata in aria 2.37 e le resistenze in aria 2.46. La rottura di questo canale dovrebbe essere un segnale interessante per le prossime esedute. Per finire il titolo Brembo sempre diretto al test dei top di periodo posizionati in aria 29.80 oltre i quali il titolo invierebbe un ulteriore segnale d'acquisto. Ricordo che per chi volesse consultare il portafoglio, la performance del nostro portafoglio MidiCap basta andare sul mio sito, un occhio sui mercati azionari, ricordo dal 1 gennaio 2014 la performance del portafoglio MidiCap al 30 maggio 2014 è di oltre il 33% contro un Fuzzitalia MidiCap in guadagno dell'11,23 e un indice Fuzzimib in guadagno di poco più del 14%. Ricordo sempre chi fosse interessato al mio servizio di newsletter e segnalo operativi non solo con email ma anche con sms di consultare la pagina premium di Trend Online nella sezione premium dove vi è spiegato il servizio. Ulteriori info alla mia mail che vedete in sovraimpressione. Ancora una volta ringrazio tutti per l'attenzione e l'appuntamento per domani giornata, ricordo ancora una volta, importante per quanto riguarda le decisioni che verranno prese dalla BCE e che sicuramente saranno i driver che condizioneranno i mercati per le prossime settimane. Ancora una volta buona serata a tutti e buon trading.